Ciao, benvenuto su Capitale Digitale, io sono Enrico. Allora, se tu stai guardando questo video sicuramente è perché ti ha incuriosito il post su Facebook. Il post che ti dice che ti sta per travolgere un'evoluzione, una rivoluzione dei pagamenti. Detta così può sembrarti anche strano. Quindi ci sei stato incuriosito, hai cliccato e ti stai guardando questo video. Tutto quello che posso dirti è che sei nel posto giusto, posso farti un grosso complimento per aver deciso di cliccare e andare oltre. Hai fatto il primo step, hai cliccato sul video. Adesso io ti posso consigliare solo una cosa. Vai avanti, prosegui, non fermarti, non lasciare dare per scontato questa opportunità che è molto, 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 molto importante. Qua stiamo parlando della possibilità vera di mettere 500 euro su ogni famiglia, ogni mese in più. Senza grossi sforzi e senza dover essere esperti di marketing o chissà quali altre cose. Una possibilità concreta, concreta per aiutare le famiglie e per dare una mano, smuovere questa economia ferma. Quindi non ci sono tante cose da dire. Vai oltre, fai un passetto in più, lascia la tua mail, scaricati il video che ti spiega come funziona questo progetto e rimani in contatto con Capitale Digitale che ti arriveranno varie informazioni che ti aiuteranno a decidere se questa cosa può fare per te. Io ti dico solo una cosa, questa opportunità nei prossimi dieci anni sicuramente non ti passerà più e non ti passerà più nessun tipo di opportunità come questa. E questo te lo dico dalla mia esperienza, più di vent'anni che mi occupo di network marketing e non ho mai trovato ad oggi un prodotto così attrattivo, così alla portata di tutti e che dia veramente la possibilità di cambiare le cose, sia che tu voglia 500 euro al mese, sia che tu voglia renderti libero con questa attività. Questa sarà solo la tua scelta e dal momento che capirai deciderai quale sarà la tua strada. L'unica cosa che ti chiedo, metti la tua mail, non esitare, non ti arriverà spam, ma solo informazioni utili per conoscere il sistema che ti farà cambiare la vita. Ciao, buona giornata!